Un atto giudiziario, appiccicato alla pulsantiera esterna nel centro storico di Bologna, il 14 agosto. Naturalmente il destinatario è in vacanza e l'avviso della raccomandata come la busta verde verranno trascinati, via dal violento temporale del 19 agosto. Il destinatario così non potrà difendersi. Gran furbata mandare multe eccitazioni in modo che il destinatario non possa riceverle, così, involontariamente, si ricevono anche le more oppure si vincono le cause. In questo sistema la mafia, almeno a Bologna, ci sguazza, ma credo anche altrove.